Sulle premesse erano poco chiare e questa prima giornata continua a essere poco chiare in quanto c'è stata una prima fase liturgica e dopo la fase liturgica vedo tutti gli interventi un pochettino come posso dire, una snocciolata di problemi, si va dal problema di Rosarno al problema del svecchiamento delle classi dirigenti ho molto apprezzato l'intervento del rappresentante della Basilicata che dice delle cose però vere quindi brilla non perché lo voglia screditare, brilla perché parla di un'urgenza che in una sede politica di cui bisognerebbe parlare per l'aspetto liturgico, mi sorprende sempre come un leader non sappia utilizzare la comunicazione cioè che comunichi sempre attraverso la liturgia o la propaganda spiccia e questo è un limite che credo giustifichi anche le sedie vuote le molte sedie vuote